E così alle otto e venti minuti arriva il momento di collegarci e fare il punto come avevo avvisato prima, annunciato prima, è l'emergenza coronavirus. La situazione in Italia è preoccupante, i voli e i paesi che hanno imposto restrizioni all'Italia e adesso noi ci collegheremo in questo istante con l'Italia, con il medico scrittore Dottor Giovanni Savignano, l'avete forse conosciuto quando è venuto qui in visita un paio di anni fa ad Adelaide e poi vorrei introdurlo subito. Vediamo se riusciamo ad avere la linea. Pronto Giovanni, ci sei? Pronto Marta, buongiorno. Buongiorno, allora che piacere sentirti, è tardi in Italia, sono le 22, mi sembra 50 minuti. 40. 40 minuti. 50, sì. Ecco, allora Giovanni, benvenuto al Marta di mattina con Marta e iniziamo con una domanda più generale dal punto di vista scientifico. Che cosa è virus? Che tipo di virus è il Covid-19? Facci un punto su questo. Ma diciamo che è un virus che appartiene alla famiglia di quelli del raffreddore, per fare un esempio. I virus sono degli organismi A-cellulari, cioè A come alfa negativo, che provvisti di un filamento di RNA, DNA, hanno pure una capsula. Però questi hanno, diciamo, hanno il potere di moltiplicarsi all'interno degli organismi, quindi utilizzando le nostre cellule. E quindi sono dei parassiti, sono molto furbi, sono dei parassiti e riescono anche a modificarsi per quanto riguarda l'orocosice genetico. Ad esempio, anche il virus dell'influenza, che noi ogni anno magari facciamo il vaccino qui, non so, insomma, penso pure da voi in Europa. Certo, certo. E diciamo, questa famiglia qua, purtroppo questi si modificano e a volte quando si trasmettono dagli animali all'uomo diventano molto virulenti e più pericolosi. Pericolosi, esattamente. Comunque, parlaci ora, quali sono le misure da attuare per contenere il contagio? Si sottolinea spesso di non toccare gli occhi, il naso, lavarsi le mani. Che cosa altro bisogna fare? Come bisogna evitare di rimanere appunto conteggiati? Diciamo che a parte queste misure igieniche, che valgono anche in tutti i casi di malattie infettive, cioè il fatto di non frequentare locali affollati, appunto di non cercare di stare lontano da coloro che hanno dei sintomi di bronchiti, di larinciti, raffreddori, starnuti, di lavarsi le mani, di seguire queste norme. Ma la cosa più importante in questi casi del coronavirus, di cui noi non abbiamo in questo momento, non abbiamo né un farmaco né un vaccino. Quindi non avendo noi questi strumenti di cura, la cosa più importante è impedire la trasmissione, ossia il contagio tra una persona e un altro. Ecco perché si parla di isolamento, di quarantena, di cercare di isolare queste persone infette in modo che non abbiano contatto con gli altri. Questo perché, ad esempio, l'influenza che noi conosciamo, quelle che viene ogni anno, l'influenza, il virus dell'influenza, siccome esiste un vaccino, le persone che si infettano, ad esempio faccio un numero che do in Italia, si infettano in un anno 5 milioni di persone. Su 5 milioni di persone, considerando anche i vaccinati, diciamo noi potremmo avere 4-5 mila persone che purtroppo hanno un esito grave. Però, in questo caso, l'isolamento è relativo, perché la maggior parte della popolazione è vaccinata. Invece col coronavirus, non essendoci un vaccino, la malattia si può diffondere velocemente. E quindi invece di infettare 5 milioni di persone, ne puoi infettare 30 milioni, parlo dell'Italia, la metà della popolazione. Allora, nel momento in cui dovesse accadere questo, qual è il problema? Su 30 milioni, noi sappiamo che fortunatamente l'85-90% guariscono. Quelli che restano, il 10%, un'altra percentuale di questi 10% magari viene curato dal punto di vista sintomatico e quindi riesce pure, diciamo, a superare la crisi. Poi abbiamo un'altra percentuale che richiede il ricovero ospedaliero. Certo. Per quanto riguarda il coronavirus, se noi permettessimo la diffusione, noi avremmo un numero tale, ad esempio potremmo avere, che ti devo dire, potremmo avere 500 mila persone, però non avremmo i posti letto negli ospedali di terapia intensiva dove ricoverare queste persone. Certo, quindi diventa problematiche. Ecco, per esempio, mentre sull'influenza, noi su 5 mila malati, su 5 milioni, dicevo, 5 milioni di malati in Italia, abbiamo una percentuale minima che richiede il ricovero ospedaliero nei reparti di terapia intensiva, si riesce a sopperire. Mentre col coronavirus, se dovesse diffondersi a tutta la popolazione, alla maggior parte, noi non saremmo in grado di risolvere. Perché? Perché, ad esempio, in Italia, ma questo anche in Europa, i posti letto di terapia intensiva in Italia sono sui 4 mila in tutta Italia. Anche utilizzando i posti letto dell'ospedale militare, arriveremmo a 6 mila, 6 mila e 500. Però non potremmo sopperire. Ecco allora l'intervento del governo. Il governo, quando dice, questo che ha fatto anche la Cina, dice che in caso in cui c'è un malato in un paese, in una città, va isolato lui, nella sua famiglia e quindi non deve uscire per 15 giorni. Cosa succede in questo modo qua? Che noi, bloccando la diffusione, facciamo in modo che le persone si ammalino gradualmente, a poca volta, in modo tale che c'è chi si ricovera, poi quello viene dimesso e poi se ne ricovera un altro. Certo. E quello viene dimesso. Quindi, diciamo, questo proprio che dipende dal governo è solo per attudire la diffusione. Perché altrimenti altre cure non esistono. L'unica cosa che si può fare è questo. Per quanto riguarda quello che tu dicevi, le mascherine, Io adesso sono stato in ospedale e oggi ho utilizzato il camice e la mascherina, ma l'ho utilizzato quando è arrivato qualcuno che era sospetto. Ho capito. Perché altrimenti a cosa serve? A cosa serve la mascherina? Noi ce la mettiamo quando io oggi ho fatto delle ecografie, delle tacche a delle persone con sospetto di polmonite da coronavirus. E in quel momento là io e i collaboratori abbiamo messo la mascherina, abbiamo messo gli occhiali, abbiamo messo il berretto, il camice. Ma solo in quel caso là, altrimenti non è che lo mettiamo sempre. Ecco, questo lo voglio dire. Capisco, assolutamente. Vorrei ricordare che stiamo parlando con il dottor Giovanni Savignano, medico scrittore, tra l'altro ha collaborato con la stampa, il Sole 24 Ore, ha pubblicato diversi libri. Qualcuno di voi forse ricorderà, è venuto anche in visita qui ad Adelaide, mi sembra un paio di anni fa, Giovanni? Nel 2016. 2016, ecco, ci siamo visti, abbiamo anche avuto modo di conoscerci. Sì, anche alla sua radio, che ricordo molto bene. Giovanni, tu hai portato anche un libro, un libro che era la storia della penicilina? Sì, sì, il caso Penicilina che riguardava uno scienziato australiano di Adelaide, Lord Howard Walter Florey. Sì, esattamente. E' che lui era nato ad Adelaide e poi si era laureato all'Università di Adelaide e poi si era specializzato in Oxford. Poi lui divenne professore ad Oxford e insieme ad altri collaboratori, tra cui il professore Ernest Boris Chain, lui riuscì, 12 anni dopo la scoperta di Fleming, a fare il farmaco miracoloso. Il farmaco, la penicilina è stata purificata ad Oxford, sperimentata ad Oxford. E il grande scienziato che ha fatto questa operazione è proprio di Adelaide, un australiano, il professor Lord Florey. Beh, è bello, mi ricordo questo libro, anzi ho una copia, l'avevo anche letto. E' una in italiano. Esatto, una in italiano. Giovanni, però dimmi, dove ti trovi adesso, in quale città? Io mi trovo in Irpinia, in regione Campania, in Irpinia, provincia di Avellino, il paese Gesualdo che dista pochi chilometri da Altavilla, il paese famoso conosciuto da Adelaide. Tante persone sicuramente sintonizzate che provengono da questa città, da questo paese. Volevo chiederti però, hai menzionato che hai fatto delle TAC, radiografie, giusto? Sì. Ecco, qual è il tuo compito all'interno dell'ospedale? Beh, io sono specialista, sono medico specialista in radiologia, radiologist. E quindi noi facciamo l'ecografia, la TAC, la radiologia normale, la risonanza magnetica, eccetera. La cosiddetta diagnostica per immagini, oggi si chiama radiologia e diagnostica per immagini. La mammografia, eccetera, eccetera. E quindi quando viene un paziente che c'ha tosse, che c'ha febbre, la prima cosa che noi facciamo quando viene richiesta è un'ATAC del torace, del polmone. Per vedere se ha questa polmonite, cosiddetta interstiziale, che è quella brutta, che purtroppo ha portato a morte anche quel giovane medico cinese che all'inizio aveva denunciato questa... A proposito, voglio approfittare per salutare tutti gli amici che ho conosciuto da Adelaide, del club Altavilla Club, Campagna Club, soprattutto Pietro Varricchio, voglio salutare Pietro Varricchio, il presidente del Parlamento, Talia. Voglio salutare tutti coloro che ho conosciuto, c'è un bel ricordo di tutte queste persone quando sono venuto, il professor Sandanelli, ricordo, e poi il grande Malgeri, il grande Malgeri, il cavaliere Malgeri e tutta la sua famiglia. Grazie, veramente, sei caro Giovanni. Quando vieni a trovarci di nuovo? Tutti voi della radio, John Fede, tutti quanti, insomma, magari mi dimentico qualcuno, però diciamo che veramente vi porto nel cuore, c'è un gran ricordo di questa città e devo dire che ho seguito con tanta tristezza questi ultimi eventi in Australia, questi ingenti, tutti questi problemi. Sono stato molto triste per questa cosa. Ora speriamo che l'Australia ritrovi se stessa e, diciamo, trovi il suo cammino iniziale di un grande continente, di questa grande, diciamo, società che ha raccolto gente di tutto il mondo. Bello, bello, grazie. E poi brava anche la grande giornalista, veramente una grande giornalista che ha tanta energia e tanta intelligenza. Mamma mia, sei troppo caro Giovanni. Noi ci aggiorneremo nelle prossime settimane, appunto, sul coronavirus. Mi farà molto piacere fare altre interviste e altri collegamenti. Ti ringrazio di cuore e niente, ci aggiorneremo. Scusa, volevo dire un'ultima cosa. Guarda che in Italia la situazione è sotto controllo. In questo momento il governo ha preso altri provvedimenti. Noi in questo momento qua abbiamo in tutta Italia 2.000 casi di infetti, 52 morti e 151 persone guarite. Per quanto riguarda la regione Campania, dove siamo noi qua, io lavoro attualmente all'ospedale di Benevento, San Pietro di Benevento, abbiamo in tutta la campagna 17-18 casi, pochi. Al momento noi qua nel sud Italia siamo ancora in una fase, diciamo, minima. Quindi speriamo che la cosa sia contenuta e che quando prima questo virus faccia la sua strada. Speriamo che il vaccino venga fatto a più presto. Ci vorrà 7-8 mesi, un anno. E speriamo che si faccia questo vaccino. Vero, vero, assolutamente. Dottor Giovanni Stavignano in collegamento con noi, grazie di cuore per il suo contributo e noi ci aggiorneremo nelle prossime settimane. Grazie e a risentirci presto. Grazie, saluti a tutta la città di Adelaide e l'Australia. A presto Giovanni, grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao Marta, grazie. Grazie a te, ciao, ciao.